C'era una volta un tempo oscuro in cui uomini, bambini e anziani non potevano uscire a causa di paure sinistre. Ogni giorno era uguale a se stesso senza nulla da scoprire, nessuno da conoscere. Tutte le persone chiuse in casa giorno dopo giorno dimenticavano il loro spirito gioioso come avvolti da una nebbia perenne. Ma la natura proseguiva il suo corso e le piogge d'autunno lasciarono spazio a nevicate che ricoprirono tutte le montagne. La gente ormai viveva lontana da essi e non poteva più vedere l'incantevole scenario. Solo una dama osava sfidare la paura per osservare la natura, vedere gli animali e soprattutto per trovare una rosa magica. Tra le streghe naturali si raccontava che le rose d'inverno fossero in grado di curare ogni male. Con esse si preparava un elisir che chiamavano il gioco, in grado di salvare la vita. Trovare questo fiore era impresa ardua, ci voleva coraggio, determinazione e spirito di avventura. La dama cercava tra i rovi i boccioli nevati ma nessuna rosa era ancora sbocciata. Le streghe non avevano rivelato il segreto per intero. La rosa sarebbe sbocciata in un luogo magico. La dama senza forza e infreddolita perse completamente l'orientamento del bosco. Quando a un tratto ella vide a terra delle macchie di colore rosso. Erano petali. Il suo cuore iniziò a battere forte dalla gioia e dalla speranza. Decise allora di seguire il sentiero dei petali magici. Lo scenario che si aprì era qualcosa di mai visto. un meraviglioso lago di ghiaccio. Dalla straordinaria forma a cuore e la rosa d'inverno, petali porpora e stelo dorato. La dama capì che la rosa era un dono d'amore che la natura faceva a tutto il mondo. Allora la dama fece la promessa di tornare per proteggere il lago. Qualcuno infatti afferma di vederla ogni inverno sempre vestita di rosso a girarsi sulla riva del lago di ghiaccio. e della rosa. La dama portò alle streghe la rosa con la quale crearono il gioco. L'elisir salva vita che altro non era che il risveglio della mente, dell'anima e dell'amore. fu così che il mondo tornò a quello di un tempo. in cui uomini, bambini e anziani potevano uscire. E ogni giorno non fu mai più uguale a se stesso. a Grazie a tutti